Benvenuti o bentornati a un nuovo video, oggi commento la finale dell'europeo che c'è stato poche settimane fa a Lille dove sono stato fortunato e sono qualificato al prossimo Pro Tour di Chicago verso la terza settimana di febbraio quindi forse l'ultima perché a febbraio ci sono meno giorni, finalissima tra Adrian Inigo Tastet con Lotus Field Combo e per arrivare così in fondo con Lotus Field Combo ragazzi vuol dire che era un giocatore straordinario perché dei due erano in quattro mentre l'altro finalista era Lars Henrich Wank con Abzan Grisfang quindi col topone diamo un occhio alle liste, la lista questa qua di Abzan Grisfang è abbastanza standard tanti scarti, tantissimi scarti, Parthelion gioca Mono Shielded che è la diciamo piccola innovazione dell'archetipo per avere un piano mid range un po' più solido la side è quella che è, abbiamo una protezione e vista abbastanza molto molto solida anche lui avrà fatto un weekend incredibile l'altro finalista è Inigo Tastet e Adrian ve lo dico, adesso i vari Lotus Field Combo non chiudono più con Second Sunrise ma con Chandra Hopes Beacon che spara 5 danni fai Balagued, lo riprendi fai altri 5, altri 5, altri 5 passa solo da, diciamo che passa da Chandra anche qua lista iper quadrata perché è quella che è i matchup mi piace tanto che di side a volte cambiano un po' piano c'è Dromoka, c'è Dragonlord Dromoka, c'è Silence c'è Liar che aiuta a fare tutte le porcherie ma so anche questo, sinceramente a mio parere non il tier 1 del formato ma il fatto che ha fatto 9-0 ad E1 un altro ragazzo e il fatto che in top 8 ce ne fossero addirittura due mi fa pensare che se è giocato a livelli altissimi è un mazzo incredibile un mazzo incredibile conferma il fatto che devi essere un giocatore straordinario per portarlo così lungo già che parte Lotus Field fa tantissimo perché credo che G1 sia molto molto determinato dal dado che parte terra scarto lì ha fatto Balagued tappato come terra può comunque chiudere perché Chandra raddoppia, copia le spell quindi avete Balagued che prende due Balagued wow è una mano vabbè no in realtà c'è Sylvan Scrying quindi è una mano quasi dipinta perché c'è Tespian Stage e qua mi verrebbe da dire che dobbiamo togliere tutt'ora credo una cosa positiva di Absent Grisfang è che ha un sacco di scarti quindi lo può rallentare molto certo mi ricordo che il mio commentary delle finali eccetera è molto chill grazie è molto molto chill molto più un discorso di come se fossimo noi seduti sul divano a vedere le mi metto dall'altra parte qui potete vedere le carte che mi metto in sovraimpressione dalla regia e lì ha pescato chiaramente il bug di MTGO perché scarti la carta e loro la ripescano sarà molto contento il nostro Lars sta pensando diciamo che avendo pescato quello sappiamo tutte le carte che ha in mano un prossimo turno non scomba ne servono almeno altri due e in realtà gli servirebbe pure un'altra terra ma c'è Balagued carto si starebbe a togliere la terra non è una giocata impeccabile non è una giocata ottimale l'ottimale era ah vabbè minchia qui pure duress scartare solo Balagued pesca la terra incredibile incredibile e gioca il visir pesco scarto visir è forte perché stappa pezzo può stappare alle terre quindi forte che sacrifica attinge mana e copia l'altro sfilde adesso è 6 mana scarto ha pescato il ratto credo che scarti appartellion in mano non lo so non vedo bene pensa Lars ah è la terra non diventa più grande l'altro si gira con questi tre danni che comunque sono importanti scarto Hidden Strings ma comunque che giocatore incredibile che è Adrian Hidden Strings Omniscience vai 10 si ha dovuto fare Hidden Strings 6-2 4 più 6-10 bam quindi è completamente al top deck fa Grisfang si anima partellion e si gira tutto si gira si gira se il visir credo che sia un 1-3 non vi serve andrà a bloccare ci sono 13 più 3 16 va a 2 vediamo cosa pesca Boseiju non basta no GG qua si pescava ultimatum ma aveva vinto eh ragazzi anche Impulse per cercare ultimatum ne aveva di roba per provare a vincere anche con Liar mamma mia G1 la porta a casa Abzan Grisfang eccoci qua ragazzi a G2 Boseiju che non accelera qua invece di là si fanno Traverse la terra base entrambi partono di Boseiju dalla mano quindi è un segno anche che non hanno carte doppie è importante Boseiju nel matchup soprattutto per il photosfield è importante perché puoi togliere quando anima quando più ha il il veicolo e lo puoi rimuovere almeno quel turno lì ti salvi un po' che di là farà un impulsi servito qua per rallentarlo un pochino secondo me la scarto giusto sarebbe super comunque sono tutti scarti difficili qua perché è proprio servito io sinceramente con tutti ho un buon piano per vincere anche contro Lotusfield ma è comunque io sono terrorizzato ragazzi sono proprio da sempre da quando c'è formato Pioneer sono sempre strani a paura vizier questo sai che era quello che avrei scartato meno perché non mi voleva far stappare sto turno qua non è che gliene hidden stream sinceramente qua non sarebbe neanche male Falengo Blank è una Liliana sicuramente sicuramente si terrà in mano ultimatum si tiene in mano ultimatum tespean stage sicuramente e credo hidden strings forse poor però penso più hidden strings perché qualcuno vuole approvare goblank è una ricorda carta che essendo uno scarto a due che sceglie il vostro hop diventa più forte quando l'hop ha meno carte ah ha scartato un timatum e dice dove vado a ricercare il tutore era almeno forte ok basis card respan stage copio vai ci sta ah avevo un cartino e ma il problema anche contro lotus field è che devi mettere pressione perché comunque se gli dai tanto tempo anche se lo scarti lui accerta le pesca perché il mazzo è fatto per quello credo che il prossimo turno abbia pure scombato se trova un altro ultimato è che il turno ha bianco pensate un po' beh qua li togli pore per non farli pescare infinito farli pescare il meno possibile il prossimo turno deve gestire i hidden strings del ciclante quindi secondo me è giusto farli ripore l'ottimo sarebbe tolgo pore terra necromancia sui due finisce però non credo neanche che ce l'abbia necromancia e gris feng go pop pop mamma mia che giocatore ho vinto fammi vedere in generale il combo fate di scombare tutto a meno che non ci siano restrizioni di tempo e mancano pochi minuti perché non che si briccano perché è difficile soprattutto a sti tavoli qua che bricchino ma sono convinto che anche il fatto di farli stancare un po' mi piace puoi far giocare un po' meglio dopo qua penso che sia pila classica omniscience omniscience liar omniscience liar e forse già anche chandra ma por sì ci sta ci sta sì qua credo che abbia chiuso qualsiasi roba li togli con l'altro si fa prendere roba toglie chandra chandra è l'unica da non togliere secondo me perché quella sì che era finisher ma fatto che il tutore tanto qualsiasi roba pesco tre r carta terra stacca r risolve il tutore quattro mana neri e tre mana blu perché così può anche prendersi liar non ha bisogno di tanta roba riprovo a riprendere chandra questa è pila classica non spero che ne aveva due di ultimatum ok 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 ecco perché non ha preso omniscience qui ci sta qua purtroppo ha perso sempre ha perso sempre perché non può non può fare niente giustamente toglie lear che è quella che che avrebbe permesso di fare tutto il cimitero però chandra il fatto che copia le spell è gross adesso il mana c'è un'esercizio di di un'esercizio un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio io ho pensato che tutt'ora fosse ancora in pila ma no prima giustamente infatti dicevo ma tutt'ora la terra di turno anche se in questa fase non è che serva tanto tanto c'è omniscience in trial top 5 card se puoi giocare un un instant sorcery dalla top la passiva di chandra riprende tutt'ora for for a zero or por un'altra terra sta andando per le lunghe si sta anche perchè ho due giorni che giocano tanto però secondo me qua un po' sta slow rollando non capisco che con che lina puoi inchiodarti sinceramente c'è una balaghead deve trovarsi un altro balaghead ma tanto c'è il tutore io non sarei andato così per le lunghe veramente il tuo rino cos'è che si è preso balaghead ok ha giocato tutte le carte dalla mano e passa questo turno in realtà è effettivamente di fai due discontinuity tocca a lui balaghead che riprende il tutore doppio giaggio che toglie il mana in masso in floating no adesso è gg perchè voglio che sia sempre gg perchè adesso fai sei danni con balaghead ti riprendi con chandra con chandra otawara otawara ci sta e mano in blu para 5 chandra in mano chi fai chandra tra 5 qui ok che fatica che fatica sto g2 adesso andiamo a g3 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 per la scarta servizio ahhh attenuto monolanda uuuu attenuto se era un balaghead andava sulla luna ecco la terra lì uuu che mano che manaccia si toglie tolga la rimozione con la blu a perillus ok grazie regia ma io gli toglierei in realtà grazer così almeno veramente abbiamo preso un turno vai 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 carto di nuovo fa malissimo cosa ha prestato ho pescato un altro visir blu eeeh secondo me silvan library non è da togliere perché tanto le terre ce le ha già se deve cercare il futuro un'altra tespian però effettivamente ci sta no in realtà ci sta si si è mangiato due turni sta tappata a go terra uuu eccola lì eccola lì vabbè vabbè quello in realtà ci sta ok o due vuoi togliere il blu cosa dovevi fare Lars comunque una roba che vi dirò sempre questi tavoli qua so che sembra tanto eh ma perché non fa la giocata quella lì è palese però pesano le carte lì raga spingo due mana faccio lotus field stappo lotus field pesco stappo lotus field pesco ora c'hai due mana in pull un po' un po' fire risposta crisi savage un botto di scarti si è scartato e millato eh questo questo sposta va bene ah è accastato la mano a visire ok non si era capito perché non avendo non avendo la la test fian stage c'ha quello per stappare lotus field quindi c'è ah vabbè dice pure nacelli però io non vedendo altre terre io quella lì la rimuoverei la rimuoverei di brutto anche ma tipo subito istantaneamente che almeno è come se non avesse una terra in mano un'altra terra in campo così ti guadagni ti mangi un altro turno cioè la scelta è anche fare tap 4 shield però attorno a shield secondo me in quello spot lì può comunque vincere adrian ci sta a terra vai expand stage giocatore incredibile che famo tappo 4 shelly questo è secondo me il giocatore che lo fa perdere io avrei fatto troppo a due per cercare un pezzo perché secondo me dopo anche con la mano che sa almeno un ciclante fa risposta ci pesca la terra risposta penso animi terra e tocca a lui cioè copia la terra e poi tocca a lui penso se fare un altro pesco ma io lo farei lo farei anche perché sennò quelle carte lì fanno male perché una volta che ci scegli giù anche i por fanno malissimo adesso io lo devi far risolvere copio lo faccio risolvere tappa op ultimatum respio stage tranquillo molto sereno copia un'altra copia credo che adrian sia 18 fatti l'assegna io prima farei un bel pesco scarto ragazzi pesco scarto e poi vediamo che succede cosa succede cosa non succede cosa scartare cosa non scartare un bel pesco che è il punto che dirà il mana c'è tutta terra e segna le vite andrà 17 lars giro per 4 boom bounce è importante questo bounce ragazzi non scraia ma brutality hidden string ci sta e mo deve peccare bam bam un po' di turni ce li hai non è non è per niente letale lars in queste situazioni au goblenca hai pescado adesso è arrivato un po' tardi lo fai per fargli scartare uno però anche esiliare il cimitero non è brutto boom giro 2 a 16 diciamo che se fa una shelly la race è di 3 turni oppure meno io avrei fatto shelly perché qua è importante mandarlo basso di vite così dai meno top deck perché lui adesso è top deck i top deck sono forti ne ha tanti forti scusate tutore aaa 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 e si fa 3 mana neri eeeh va a prendersi ultimatum no ultimatum stava già facendo la pila si non sta rimischiando non perché barba che è tanto stava che andava a prendersi ultimatum e gliene rimane 1 e 1 ultimatum credo credo che vi proponga liar sicuro perché con liar scomba tutore ah uh forte perché col tutore come se si andasse a prendere tutto ciò che lui non mette sopra perché qua omniscience si toglie il leer ma lui intanto si va va a riprendere il leer fa scombato scombato credo che abbia scombato stappa terra stappa 2 stappa 2 risolve non è ordinatissimo risolve il tutore che era rimasto da risolvere passiamo a prendere l'ear con l'ear può fare un po' è creatante in realtà perché dovete sempre tenersi tre un po' di neri un po' di blu e a 8 poi ridendo scherzando sicuramente prima cosa rimbalzi shelly perché sennò comporre non puoi andare ok danse strings i2 l'alman appaga no dovrebbe avere due blu non credo cambi molto ma dovrebbe avere due blu due blu non quattro sapore a dieci va cinque uno per un stage undici mangio cinque faccio il pore che ho pescato un impulse spero che fare prima impulse così da mettermi sotto carte un po' più brutte neri or ah no fa tutt'ore qua giusto perché fai tre neri così ti vai a prendere ultimatum e fai di nuovo giusto ti lascia open l'ultimo mino no ragazzi l'ars ha giocato bene ci stava non giocare quel goblank e già prende le chandra omniscience chandra forse era meglio i dance strings no 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 giusto giusto pare pure giusto mi ha lasciato omniscience omniscience un bel pesco tre adesso tre stappo due ok adesso gli impulse li facciamo gratis quindi abbastanza più tranquilla la stessa sta mettendo tanto a scombare il signor adrian ok ok hai visto otto carte una blu quanto opporre di fare gratis sì ma una volta che c'è omniscience ok volendo può anche passare penso che per prendere balaged possiamo anche che pare un po' solitari per scombare bastano 1 tavara 2 balaged chandra gg adrian campione europeo entrambi vanno ai mondiali quindi penso che fossero felici tutti e due dai wow scusate la noia della scombata ma esistono anche questi così ascoltiamo anche l'intervista europeo come ti senti è esausto un weekend lungo ha vinto sia la coppa che quella ufficiale che qua una domanda perché gioca discontinuiti nel mazzo un nuovo approccio del mazzo poi stai far da solo hanno provato hanno iniziato a provarlo visto che funzionava molto bene questa è la carta chiave di questo weekend sappiamo come funziona ma qual è stata la carta chiave di questo weekend e pensa che comunque discontinuiti sia una carta molto forte perché ha portato l'ottosfield al suo torneo e cosa consiglierei è incredibile puoi uscire da qualsiasi spot è molto difficile ma invita la gente a provarlo e che meta si aspettava e che meta sperava pensavano che ci sarebbero stati un sacco di felici e lui pensa che comunque sia un mazzo che anche contro matcha brutti puoi semplicemente pescare forte e vincere l'uguale pensava di beccare tanti fenici ma non è beccati zero era il mazzo che pensavo che avrebbero portato di più ok adesso fai il solito show ti aggiungo io che per discontinuiti è fortissima perché nel tuo turno discontinuiti non costa 6, costa 2 e quindi tu puoi tappare le due terre fare l'ottosfield, l'abilità di l'ottosfield che va in pira puoi fare i discontinuiti il turno finisce quindi l'abilità della pira si tolgono e quindi ti rimangono tutte le terre in campo ed è quella un'accelerata incredibile in più al costo 6 il fatto di far finire il turno può anche essere un counter può anche essere un time walk non far pescare l'oppo, tocca a te è veramente esausto e molto contento ed è contento di essersi qualificato chiaramente in mondiali bene ragazzi anche per me il video finisce qua spero che vi sia piaciuto e lo sapete a me piace tanto fare questo per commentare un po' perché analizziamo un po' la partita viviamo anche molto più serenamente però ragazzi è fighissimo quegli ambienti lì sono incredibili grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti